Ormai è già da più di un anno che l'edilizia residenziale pubblica in Toscana va avanti solo ed esclusivamente con la forza dei propri canoni. Pensate che noi abbiamo un affitto medio di 100 euro, quindi l'ultima possibilità che avevamo per portare dentro un po' di risorse fresche erano gli ultimi fondi commerciali rimasti. Arezzo Casa ha così deciso di mettere all'asta l'affitto di 10 immobili. Si tratta di fondi ad uso commerciale e non abitativo, 8 si trovano nel comune di Arezzo in pieno centro e 2 a Cortona. Tra questi c'è anche l'ex asilo di Via della Chimera. Il bando scade a marzo, quindi ancora la tempistica c'è, chiunque volesse vederli può andare nel sito di Arezzo Casa, troverà la ricognizione fotografica di ogni singolo immobile, la descrizione catastale corretta e la base d'asta minima da cui si parte. L'offerta va fatta in busta chiusa e poi le offerte verranno aperte una volta che il bando sarà scaduto. La nostra volontà era quella di rimetterli nel mercato nel tempo più breve possibile con la speranza di riuscire a allocarli, perché poi quello che riusciamo a introitare da questi affitti viene riversato nella manutenzione che facciamo delle case popolari. Quindi queste per noi sono energie fresche che ci danno una mano a portare avanti la nostra mission. Un'iniezione di risorse è fondamentale in questo momento storico. Ormai da un anno infatti Arezzo Casa non usufruisce più di alcun finanziamento statale, regionale o comunale. Anzi Arezzo Casa paga ai comuni un canone concessorio che al netto della rivalutazione oggi è arrivato quasi a 340.000 euro, tutti i soldi che purtroppo vengono sottratti alla manutenzione, quindi è diventato veramente, veramente difficile. Non c'è mai stato storicamente nella storia della Repubblica un momento così difficile per l'edilizia residenziale pubblica. In Toscana, secondo un recente studio di nomismo elaborato per CISPEL, le domande innevase di case popolari riguardano oltre 17.600 famiglie, mentre in un anno ne vengono assegnate in media poco meno di mille. Per assorbirle tutte dunque occorrerebbero 17,6 anni. Ad Arezzo, in assenza di nuove domande, invece ne sarebbero sufficienti otto. Noi siamo un'eccellenza sotto molti punti di vista, ma è evidente che questo non sia sufficiente. Il solo comune capoluogo ha fatto da poco un bando che è stato aperto. Insomma, c'erano 270 famiglie in attesa, tutte quante con i requisiti, quindi che avrebbero diritto ad entrare in una casa popolare e che saranno costretti ad aspettare chissà quanto.